Salve, sono Gabriosta. Dopo che Freccia Verde ha sconfitto solo Mongrandi e Killer Frost, ora dobbiamo andare avanti. Siamo sempre in questo quinto capitolo. Avete visto, ragazzi? Con noi abbiamo Lanterna Verde, Wonder Woman, Aquaman e Batman della Insurrezione. Invece qui stiamo vedendo l'ex Luthor che sta parlando con Superman. Ma ricordatevi che Luthor è il traditore di Metropolis. Niente cena stasera. La prossima volta. È della dittatura Superman. Questi doppioni? Credi che ci sia una Lois nel luogo da cui provengono? Lois Lane era unica. Mi dispiace, ragazzi. Ormai Superman è vedovo. Non era tanto bene a sua moglie, Lois Lane. Bene, ma torniamo ai nostri amici. Freccia Verde non ha mai visto la Bat Caverna. Ma la Bat Caverna si visitava in Batman Arkham Origins. Chissà cosa succederà nella Bat Caverna. Qui stiamo vedendo la Bat Mobile, il Bat Plano, Bat Computer. Ci siamo dati parecchio da fare. Batman ha messo l'arma in un cavo che si sarebbe aperto. Aveva bisogno del nostro DNA. Vai, lanterna. Bello il tuo trapano lanterniano. Fa un sacco di osa il tuo anello. A Superman vorrei tirargli un sasso. O la Kriptonite. Guardate cosa fa Batman con quel telecomando. Guardate, dal pavimento esce fuori qualcosa. Gabriosta vi sta facendo vedere un sacco di sorprese, ma anche quello che succede in questa Bat Caverna. Qui si deve mettere le mani. Devono mettere le mani sugli scanner. E il computer deve avviare la scansione. Ma guardate questi cinque colori. Blu, verde, giallo, arancione e rosso. Non vi fanno pensare a qualcosa? All'indicatore di paura? A Monsters & Company, l'isola dello spavento. Oh, mi sa che non siamo soli, ragazzi. C'è qualcuno che ci dà la caccia. Altra dittatura. Oh no, della dittatura sono arrivati Wonder Woman e Black Adam. Siamo nei guai, non ci voleva. Freccia verde deve occuparsi di questa falsa Wonder Woman. Io vi saluto, arrivederci. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Altri video vi aspettano e poi vi aspetta una bellissima battaglia in questa Bat Caverna.